Il selfie tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a un giorno dalle nozze, fa entusiasmare i fan che notano subito una somiglianza. Manca pochissimo. Un'ora circa a loro sì che li unirà in matrimonio. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nella scorse ore si sono immortalati insieme in un selfie romantico distesi a letto che i più attenti hanno ribattezzato come selfie, nostalgico, post-GF. Stessa posa di allora, di quando cioè Cecilia e Ignazio sono usciti insieme dal reality show che li ha uniti nella vita reale. I fan attentissimi hanno notato immediatamente la somiglianza tra il selfie di allora e quello pubblicato ieri. I due si guardano negli occhi, stesi sul fianco. Cecilia ha scritto. La mia persona preferita ha un bel faccino, ed ha angelo il suo sorriso. E ha aggiunto un bel meno uno. Era il 2017 e dopo una convivenza di sette anni è arrivato il tempo di convolare a nozze. Ieri sera ha avuto inizio il party per i festeggiamenti in Toscana. Più precisamente in una località, Carmignano, nella frazione di Artimino, nella villa Medicea e la Ferdinanda. 200 invitati, la musica live di Tananai e tanti tanti parenti e amici per la coppia che si è formata al grande fratello VIP.